Ragazzoli buongiorno e buona domenica, vi devo dare una comunicazione importante, per un periodo di tempo non pubblicherò più i miei video qui su TikTok Voi direte, no ma perché ci abbandoni, perché te ne vai? Alt, state tranquilli che io comunque sarò sempre presente, pubblicherò i miei video qui e qui, sì sì E per un periodo di tempo TikTok? Sì ragazzi, perché è semplice la situazione, cioè praticamente su TikTok siamo un milione e due e poi qui e qui E siccome ho intenzione di far crescere anche questi due profili, quindi ho pensato che io risponderò ai vostri commenti solamente qui e qui Intanto vi chiedo grazie per tutto il supporto che mi avete dato qui su TikTok E che siamo adesso una famiglia di un milione e duecentomila E quindi vorrei anche che questo supporto me lo date anche qui e qui Seguitemi, vi aspetto in tantissimi, anche perché ragazzi risponderò solamente qui adesso Se mi volete bene, mi supportate e volete che continui a fare io i miei video Vi aspetto qui, vi aspetto in tanti Preparate i ditini e consumatevi polpastrelli Mi raccomando, dal barista di TikTok Tiptonok 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 Tiptonok